Non ha ancora finito di mietere il successo di Avatar e il regista canadese James Cameron già pensa a un sequel. Il regista del Colossal futuristico in tre dimensioni ha detto che potrebbe lasciarsi convincere a dare un seguito alle avventure sul pianeta Pandora. Potremmo lasciarci convincere, dobbiamo vedere quanti soldi il film riesce a fare, ha spiegato la CNN. I soldi in realtà non dovrebbero essere un problema, considerato che il film, che mescola perfettamente dramma e fantascienza, ha già raccolto in tutto il mondo oltre 2,5 miliardi di dollari, oltre 600 milioni sono negli Stati Uniti e Canada. E la serata degli Oscar, il 7 marzo, nella quale il Colossal della Fox si presenta con nove nomination, è destinata a dargli un'ulteriore spinta. Grazie a tutti.